Un singolare episodio si è registrato ieri sera presso la stazione dei Carabinieri di Rosolini. Un uomo di 45 anni originario di Scicli, già noto ai militari per i suoi precedenti penali, si è presentato presso la stazione di Rosolini per confessare di aver rubato poco prima un'autovettura a Scicli. L'uomo ha raccontato ai militari che mentre camminava per strada nel paese Ibleo aveva notato che l'autovettura, una Toyota RAV4, era stata parcheggiata sulla pubblica via con le chiavi inserite nel quadro d'accensione. L'occasione è stata ghiotta, tanto da non pensarci due volte, e così l'uomo si è messo alla guida della macchina allontanandosi verso Rosolini. Tuttavia, giunto nel comune siracusano e probabilmente accortosi anche che l'autovettura era monitorata da antifurto satellitare, l'uomo ha ripensato a quello che ha fatto e ha deciso così di dirigersi verso la caserma per confessare il furto. I carabinieri hanno restituito il mezzo al legittimo proprietario e hanno deferito in stato di libertà all'uomo che si è pentito all'autorità giudiziaria per furto aggravato.